Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Antoine Manfri e oggi parleremo della partita Palermo vs Francavilla Partita che purtroppo i rosa e nero cadono al Barbera 2 a 1 Vantaggio del Palermo di Valente, poi pareggio al 63esimo della Virtus Francavilla Poi gol all'86esimo del Francavilla che sancisce la partita e purtroppo il Palermo perde la sua sesta partita Ha perso 6 partita il Palermo Purtroppo questa maglia si deve onorare Si deve onorare Si deve onorare questa maglia Questa maglia si deve onorare Si deve onorare come prima Vi ricordate un certo Eugenio Coini che onorava la maglia? Vi ricordate Luca Toni che onorava la maglia? Vi ricordate Fabrizio Miccoli che onorava la maglia? Questa maglia va onorata, lo ripeto sempre, va onorata Cioè, dieci anni fa stavamo ad un passo alla Champions Adesso siamo in sedici, decimi o noni, uguale Cioè, se ci andassi io in campo Io giocherei bene Io giocherei bene Anche se io fossi uno di primavera Uno che ma... Cioè, uno che... Io c'ho undici anni Ora ve lo dico, c'ho undici anni Però se mi chiamassero io ci andrei Cioè... Allora, cioè... Scusate lo sfogo Ora vi farò vedere la classifica Di serie C Solo giro in Cia Primo Ternana Secondo Bari Terzo Avellino Quarto Catania Quinto Catanzaro Sesto Teramo Settimo Foggio Ottavo Turris Nono Palermo Decimo Iovestabia Undicesimo Virtus Francavilla Dodicesimo Vibonese Tredicesimo Viterbeste Quattordicesimo Casertana Quindicesimo Monopoli Sedicesimo Potenza Diciasiottesimo Bisceglie Diciosesimo Paganese E diciannovesimo Cavese Ventesimo Trapani Che non lo contiamo Quindi è ultimo la Cavese Vedete ragazzi Io sono un po' carrabbiato Per se la sconfitta Cioè la sesta sconfitta In campionato Che ancora Non la digerisco Io non la digerisco Posso capire Posso capire Tre sconfitte Quattro Cinque Ma non sei Cioè la Juve Cioè La Juve Che l'anno scorso Ha vinto il campionato Di Serie A Ha avuto solo Sette sconfitte Ma vabbè Quella è un'altra cosa Cioè quella È un'altra cosa Perché è in Serie A Non è in Serie C Cioè Però Già siamo al numero Quasi E niente Io adesso passo la linea Ad Antony Ciao Bella Ragazzi ragazzi In questo Unissimo video Qua è Antony E questo oggi Palermo Della partita Palermo Francavilla Vinta dal Francavilla 2 a 1 Per il Francavilla Allora Iniziamo subito Con i voti del Palermo Poi dal Francavilla Peragotti 6 Accardi 6 e mezzo Lancini 5 Somma 5 e mezzo Crivello 5 Io lo chiamo Odger 5 e mezzo Palazzi 5 Luperini 5 e mezzo Canute 4 e mezzo Lucca 4 e mezzo Valente 7 L'unico che ha fatto Decentamente O detto anche Discretamente La partita Poi ci sono Le entrate del Palermo Che sono Santana Saraniti Broca H Non lo so Come si pronuncia Rauti Silipo Poi andiamo Col Francavilla Dei voti Crispino 5 e mezzo Delvino 6 e mezzo Pambianchi 6 e mezzo Camporeale 6 e mezzo Gianotti 5 Ticette Ciova Cinque Franco 6 Di Cosmo 6 Nunzella Nunzella 6 Ciccone 7 e mezzo Vacuaz 7 Non lo so Pronunciare Ragazzi È la prima Volta Che Dico I voti Del Francavilla Poi ci sono Le entrate Del Francavilla Che sono Castori Che Iro Un 7 E poi Zenuini Zenuni Carella E Mastro Pietro E ragazzi Per questo video è tutto Qua da Anto e Manfredutto Iscrivetevi Lasciate like E niente Che bella Iscrivetevi Ragazzi Eh Scrivetevi